In casa mia mio babbo era di origini politicamente socialista e quindi aveva militato nel socialismo negli anni della fine della prima guerra mondiale, anzi aveva partecipato anche prima della prima guerra mondiale perché mio babbo aveva fatto anche la guerra di Libia nel 1911, l'unica cosa grossa che lui ricordava delle manifestazioni però era che quando ricamata le armi nel 1915 a Siena presso il distritto militare di Siena aveva partecipato a una manifestazione dei richiamati contro gli studenti interventisti che chiedevano l'intervento dell'Italia in guerra e i richiamati invece erano contrari fecero questo scontro con gli studenti e questa volta gli si sono date. Dopo però non aveva più partecipato a grosse manifestazioni alle attività che il partito socialista allora prima della guerra, dopo guerra esercitava, poi lavorò per un paio d'anni al lavoro di manutenzione della linea ferroviaria, sperava di poter entrare piano piano in ferrovia ma gli dissero qui se vuoi fare carriera devi iscriverti al partito fascista e lui ritornò a fare il mezzarro dove non gli veniva richiesto questa cosa e infatti uno dei vanti che mio padre ha potuto portare con sé era quello di non essere mai stato scritto al partito fascista però dovete accettare andare al lavoro anche in poderi molto poveri e quindi si aveva una miseria enorme era difficile andare a trovare anche 30 centesimi per costare pensate che io siccome nel primo anno di scuola riuscii a sgabellare l'iscrizione a Balilla perché era obbligatoria alla scuola la mia maestra me lo diceva nel portasoldi per la tessera da Balilla io lo dicevo a casa dice non ci sono i soldi io lo dicevo alla maestra non ci sono i soldi e il primo anno la prima classe la passai nel secondo anno si arrivò verso gennaio dice deve venire il direttore dovete essere tutti Balilla disse la maestra e siete costretti la mia mamma gli toccò prendere una pollastra dal pollaio vendere la pollastra per pagare la tessera da Balilla che costava mi sembra 3 lire non era una tessera che costasse poco a qualcuno le veniva data gratis ma io di famiglia purtroppo mio babbo no purtroppo mio babbo non era scritto in fascia e quindi doveva pagare la tessera da Balilla ecco quindi le mie origini quando mio fratello fece la guerra il fronte greco albanese perché fu richiamato andò militare subito a Tirana e poi dopo partecipò al fronte greco albanese dei servizi sedentari perché aveva un braccio che gli impediva l'imbracciatura rapida del fucile e quindi comunque riuscì a superare la guerra greco albanese arrivati a Tirana ad Atene fu mandato al deposito militare di Viterbo e questo viene l'agosto del 1943 dove lo sorprese l'8 settembre l'8 settembre da Viterbo scappò disertò dal reggimento e ritornò a casa dopo diversi giorni di viaggio vestendosi vendendo le divise militari e facendosi dare in cambio dei contadini un paio di pantaloni una camicia bianca una camicia insomma da borghese per poter rientrare e rientrò a casa nel novembre del 1943 ci fu il primo bando mi sembra firmato da Graziani del risorto che diceva si ricostituiva l'esercito nazionale guidato dal partito nazionale fascista e che quindi tutti i militari che avevano disertato i posti e i reggimenti dovevano ripresentarsi alle loro sedi da dove erano scappati l'8 settembre fu fatta una scelta se una famiglia se ne discusse io avevo letto questo bando diverse volte lo ripetei in famiglia mio fratello disse io non torno a militare io vado alla macchia questa è la mia scelta e in famiglia si fu d'accordo e mio fratello mi disse guarda Nello che purtroppo una parte del peso tocca addosso a te perché io allora avevo 15 anni sarà te che quello mi dovrai portare dei vettovagliamenti alla bacchia quindi rischierai anche te e mi disse sono pronto ad affrontare questo pericolo ecco e mio fratello si unì ad un altro gruppo costruirlo anzi ripristinarono vecchia panna di arbonai eccetera dove si presentò un primo gruppo di retinenti alla leva quindi di possibili partigiani della banda di Tirli si costituirono da Tirli passava di lì un cosiddetto capomacchia allora che erano quelli che prendevano per conto dei padroni grosse macchie pezzi di macchie a tagliare poi a farci le carbonaie dopo per farci il carbone e questo capomacchia era uno che si amava Belli Benvenuto questo Belli Benvenuto era già uno appartenente al partito comunista clandestino e quindi riceveva qualche istruzione rare che filtravano ma comunque e dice dovete stare in piccoli gruppi perché noi non abbiamo le uniche armi fucili da caccia il mio papà era un pacifista non aveva voluto mai fucili in casa e quindi noi non sapevamo nemmeno il fucile il mio fratello non bracciava male comunque quei vicini con cui si andò a formare questo primo gruppo dei poderi vicini avevano dei fucili da caccia però erano offensivi nel modo di dire a 20 metri potevano fare l'efficacia allora si trasformò e partecipai anch'io le artucce da pallini con la pallotta di piombo da cinghiale e che arrivava a un 50 60 metri di distanza ad essere efficaci però Vertobelli si raccomandava non andate con queste armi a affrontare i tedeschi specialmente perché loro sono armati bene e quindi non ce la facciamo vediamo creiamo le condizioni perché poi gli alleati possono fare dei lanci per gettare delle armi questo però venne messo dopo perché si formarono vari gruppi io portavo da mangiare ogni so quattro giorni poi vicino c'era un altro ragazzo che aveva un anno più di me portava anche lui da mangiare ecco la funzione delle cosiddette staffette allora noi si venivano chiamati collaboratori di quelli erano alla macchia poi quando c'era da portare un altro ordine un altro gruppo e c'era il gruppo delle lame insomma erano vari gruppi tre o quattro gruppi dove si portava le istruzioni come si dovevano come si dovevano comportare doveva essere per ottenere l'ancici doveva essere il radiotelegrafista inglese se noi gli alleati non avrebbero senza poi non era possibile comunicare con loro quindi si fu ritardo poi fu lanciato finalmente fu lanciato dopo gli alleati erano sicuri nelle macchie di Tirli un radiotelegrafista fu installato vicino al paese di Tirli e da dove comunicava poi e gli fu data la localizzazione dei campi di alcuni campi molto lontani da Pian Dalma nelle macchie tra Tirli e Scarlino è tutto un bosco quindi è facile nascondere c'è un paio di poderi dispersi nelle campagne quindi con i fuochi tutte le sere passava ogni torre si sentiva piano piano sorvolarla insomma piano piano fu fatto dei lanci fu lanciato qualche armi ma erano sempre insufficienti un po' di mitra di caricatori le munizioni mancavano insomma non mancavano erano pochi quindi state attenti non le usate per fare prove perché è difficile poi poter procurare altre poi c'erano anche altre cose un po' di indumenti anche un po' di cioccolare qualcosa da mangiare ma quelle lì furono presi per quelli che erano di fuori i prigionieri che erano scappati dai campi di concentramento che si erano un po' radunati verso Tirli in modo particolare e lì c'era il nostro capobanda che era Peoti Sabatino che di origine di Vivio di Ravi che aveva preso un po' più istruito anche in questo fatto aveva partecipato anche nelle zone di Firenze lui a organizzare qualcosa delle formazioni di partigiani quindi ecco fece il comando di queste anche lui però una volta fu fatto quasi in primavera nella tarda primavera un incontro io partecipai occasionalmente a un incontro in una stalla nella stanza del Trinciaforaggi dove c'era anche altre cose c'era uno con Baffoni e dice io sono socialista e però e poi c'era uno nostro conoscente eccetera io sono repubblicano e uno mazzo io ricordo solo che si amava Ovidio io rappresento la democrazia cristiana e la prima volta io sentì ecco questo vado a aumentare esposero esposero un po' i programmi che tendevano adottare ecco questo fu il primo un po' di battesimo sulla politica ma in modo particolare come ho detto la tendenza maggiore era testa da parte specialmente dei giovani era orientata verso il PC perché era il più attivo in quel momento scendo dalla flandestinità